Apertura dei lavori del Consiglio regionale dopo la pausa estiva con un minuto di silenzio che il Presidente dell'Assemblea, Antonio Masseo, ha voluto dedicare ai familiari e alle nove vittime dell'alluvione che colpì Livorno il 10 settembre del 2017. Quello che successe a Livorno il 10 settembre del 2017 ha lasciato una ferita profonda non solo nella comunità livornese ma in tutta la comunità toscana e allora oggi ho deciso di ricordare quelle vittime prendendo anche l'impegno e la necessità di tutti di investire di più in prevenzione perché quello che è accaduto non sarebbe mai dovuto accadere, non dovrà mai più accadere, vite spezzate e la necessità da parte di tutti di investire di più sulla prevenzione. Ed altri eventi alluvionali, quelli dell'ottobre e del novembre 2023, è stata dedicata un'audizione tenuta dalla Commissione d'inchiesta presieduta da Elisa Tozzi che ha sentito il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni. Sicuramente si è aperto un'interlocuzione interessante con la Giunta regionale e sicuramente il lavoro da fare sarà un lavoro di approfondimento di non poco conto anche e soprattutto per quanto riguarda la parte degli investimenti perché io credo che sia sotto gli occhi di tutti ormai che non è più possibile che in questa Regione appunto quando si verificano degli eventi meteorologici che per quanto possano essere eccezionali poi diciamo mettono di nuovamente in ginocchio a distanza di poco tempo interi paesi, beh voi capite che quanto mai è opportuno capire soprattutto lo stato dell'arte delle infrastrutture in Toscana. I nostri approfondimenti avranno ad oggetto naturalmente quello che è stato fatto, quello che è stato programmato, quello che non è stato realizzato e da una parte sicuramente l'attività della Commissione dovrà necessariamente aiutare a chiarire anche quelli che sono i costi, quelli che sono il famoso miliardo chiesto al governo Meloni per ricostruire la Toscana. Noi non ci sottraiamo a questo, semplicemente vogliamo capire esattamente dove questi soldi sono stati spesi a fronte di risorse e in Toscana sono comunque già arrivate. Sull'audizione si sono espressi il Vice Presidente della Commissione Francesco Gazzetti, gli esponenti dei gruppi della Lega e del Movimento 5 Stelle, Massimiliano Baldini e Irene Galletti. È una valutazione sicuramente positiva anche perché la Commissione ha iniziato i suoi lavori con due audizioni molto importanti e significative, quella del Presidente Gianni e dell'Assessora Monni. Il clima è quello della massima disponibilità e si fa sempre più largo da parte nostra come maggioranza la convinzione che questa Commissione davvero possa essere lo strumento migliore anche per richiamare tutti, a partire dal Governo, a fare il proprio dovere perché mancano ancora molti finanziamenti e quindi sicuramente il lavoro che porteremo avanti in seno la Commissione servirà anche a evidenziare questo aspetto e a rilanciare questa richiesta nei confronti del Governo nazionale. La Commissione è iniziata in modo positivo, ben organizzata dalla Presidente Tozzi e sono soddisfatto da un certo punto di vista perché il Presidente Gianni ha ricordato nel corso della sua audizione l'importanza del lavoro svolto anche da parte nostra in particolar modo da parte della Lega per quanto riguarda l'attivazione dell'attenzione sulla costa però al contempo ho ricordato al Presidente Gianni che il suo ruolo di commissario per la mitigazione del rischio idrogeologico che lui ha in virtù di una precisa legge voluta nel 2014 dall'allora Governo Renzi e in qualche modo gli consegna una responsabilità sugli eventi una responsabilità di ordine politico sugli eventi accaduti quindi ho chiesto che si smettesse questo rimpallo di responsabilità verso il Governo che noi non crediamo assolutamente vi sia mentre invece anche alla luce di quello che è successo proprio in questi giorni evidentemente la Regione Toscana è ancora indietro e credo che il Presidente Gianni debba più riflettere su quelli che sono i suoi ruoli e su quelli che sono i compiti in virtù di questo ruolo aggiuntivo che ha più che guardare alle questioni del Governo è all'eccessivo consumo del suolo che è stato fatto anche in queste aree ma soprattutto per cercare di capire anche come evitare altri fenomeni come questo ciò che è accaduto in questi ultimi giorni di nuovo in Toscana ci fa capire che il nostro territorio è fragile, estremamente fragile e queste commissioni, gli esperti che vi parleranno al suo interno possono aiutarci a capire quali sono le precauzioni e le misure da prendere come amministrazione per cercare di fare in modo che si possa perlomeno mitigare quei danni che probabilmente, visto il cambiamento climatico in corso saranno inevitabili ancora per molto tempo è necessario un intervento attento Agenda 2030 che è dell'Unione Europea ma soprattutto che il Movimento 5 Stelle ha già anticipato nel 2009 quando è nato è l'unico strumento che ci può permettere di fronteggiare questa che potrebbe essere una delle più grandi crisi climatiche che ha conosciuto il genere umano da quando è sulla Terra Presentati in una conferenza stampa a Palazzo del Pegaso i bandi di Corecom, Toscana e Spot 2024 Non abbocchiamo e La Toscana che fa bene Alla presentazione sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo il Presidente del Corecom Toscana Marco Meacci e il Presidente del CESWOT Luigi Paccosi Io sono davvero felice di poter presentare questa iniziativa anzi questa iniziativa insieme al Corecom oggi qui da un lato la comunicazione sociale e l'importanza che riveste per tante cittadine e tanti cittadini un'iniziativa che portiamo avanti insieme al CESWOT ormai da diversi anni e che dà il senso anche di un punto di vista differente come regione vogliamo avere e poi l'altra iniziativa altrettanto importante che è un modo per sensibilizzare le cittadine e i cittadini sulle truffe che spesso avvengono attraverso i canali informatici attraverso iniziative come queste noi vogliamo dare il nostro contributo per avere una società ancora migliore e per dare ai cittadini tanti strumenti per accorgersi purtroppo che le truffe sono tante e avvengono anche in maniera molto semplice quasi inosservata Noi avevamo già pubblicato i due bandi perché sono due bandi uno è la Toscana che fa bene l'altro è la Toscana e spot già a metà luglio già avendo fatto una comunicazione pubblica in questo senso ora siamo a ridosso in qualche modo mancano ancora 20 giorni per partecipare a questi due bandi a cui teniamo molto a cui tiene molto anche la regione toscana e vari organismi che partecipano uno appunto è la Toscana e spot che è quella legata a fare dei video di massimo 60 secondi rivolte ai residenti in Toscana a partire dai giovani della Toscana e quest'anno il tema è quello delle truffe telefoniche delle truffe telematiche e il titolo è appunto Non abbocchiamo per cui noi chiediamo che ci vengano così inviati questi video che poi verranno premiati avranno anche dei riconoscimenti economici con un totale di 10.000 euro premio da 5.000, 3.000 e 2.000 euro e questo è chiaramente un tema molto sentito molto d'attualità e servirà per sensibilizzare la popolazione a partire dalla popolazione più fragile e vulnerabile l'altro bando importante che facciamo in collaborazione col CESVOT e con la regione toscana invece è quella la Toscana che fa bene e si rivolge a tutto quello straordinario patrimonio di mondo che è il volontariato, l'associazionismo, il no profit e non solo si rivolge a premiare le migliori campagne di valore sociale, di interesse pubblico per cui è in qualche modo un riconoscimento e una valorizzazione di tutto quel lavoro importante che viene fatto e qui possono partecipare sia gli enti no profit sia le istituzioni e i privati cittadini CESVOT è da sempre attento alla comunicazione sociale abbiamo un archivio di più di 3.000 documenti da 68 paesi del mondo quindi è un archivio importante e quindi siamo molto contenti di partecipare insieme a Corecom a questo concorso che ormai è la terza edizione le altre edizioni sono stati premiati delle cortometraggi molto belli il primo mi ricordo di riunione ciechi di Prato l'anno scorso dell'Avis quindi speriamo che il terzo settore anche quest'anno possa partecipare a questa campagna perché penso davvero che ce ne sia bisogno perché la comunicazione sociale non è un marketing commerciale ma si rivolge proprio ai cittadini per invitarli a degli stili di vita diversi e quindi per cambiare in qualche modo la nostra società il 21 settembre prossimo si terrà a Fogliano della Chiana la seconda edizione del premio giornalistico Sbardellati Nottolini quest'anno dedicato al tema delle fake news i nuovi linguaggi e la libertà di informazione il premio promosso dal comune di Fogliano della Chiana con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Corecom in regione toscana è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo del Pegaso ogni volta che si parla di informazione libera ogni volta che un premio viene dedicato a chi ha fatto ha messo a disposizione la propria vita per offrirci informazione libera noi dobbiamo esserci investire in iniziative come queste vuol dire anche mandare un messaggio alle ragazze e ai ragazzi più giovani fare il giornalista essere giornalista vuol dire anche servire la propria comunità come fate anche voi e il lavoro di un giornalista libero permette a ciascuno di noi di essere un cittadino o cittadini più liberi quindi grazie all'amministrazione comunale di Fogliano della Chiana grazie al suo sindaco grazie a chi ha pensato questo premio perché manda anche un messaggio di speranza a tanti ragazzi e a tante ragazze L'iniziativa è importante e la prima edizione è veramente ben riuscita con tanta cornice di pubblico tanta risonanza e l'importanza di questo premio secondo me risiede nel fatto non soltanto di dare riconoscimenti a chi fa un mestiere molto delicato quello della comunicazione del racconto dell'indagine quindi quello del giornalista non è un lavoro come tanti altri è un lavoro molto particolare che spesso attiene anche al rapporto tra i poteri tra virgolette e poi quello che le persone che leggono che ascoltano che si informano percepiscono rispetto al racconto fatto l'aspetto importante che voglio sottolineare di questo premio è anche il fatto che non soltanto si danno riconoscimenti a giornalisti affermati che già hanno avuto grandi esperienze che magari sono note al pubblico ma anche al giornalismo locale al giornalismo settoriale quello meno conosciuto quindi si vanno a dare riconoscimenti a premiare quelle persone che raccontano quelli che sono i fatti di un territorio che sono fatti che magari resterebbero sconosciuti a più e che invece grazie a questo prezioso lavoro vengono fissati in un comunicato sulla carta oppure in televisione e questo è un aspetto molto bello e credo anche particolare che il premio giornalistico di Foiano vuole riconoscere e credo che questo aspetto sia veramente un aspetto che va valorizzato per il Corico è in qualche modo naturale spingere, promuovere, valorizzare dare un piccolo contributo di promozione ai vari premi che avvengono in Toscana in particolar modo a questo che è stato messo in piedi dalla città e dal comune di Foiano perché appunto in qualche modo serve per valorizzare il tema della libertà di informazione del pluralismo dell'equilibrio ma anche della ricchezza che il sistema informativo della Toscana da sempre esprime e continua a esprimere io fra l'altro conoscevo personalmente avevo ottimi rapporti con i due giornalisti Nottoline e Sbardellati a cui è insegnito e dedicato il premio per cui è un piacere ulteriore ulteriore e anche un applauso da parte del Corico al comune di Foiano per questa bella iniziativa che in qualche modo contribuisce anche come elemento di stimolo e di riflessione sul tema dell'informazione noi fra l'altro proprio prossimamente organizzeremo gli stati generali dell'informazione in cui metteremo a sistema e a fuoco le questioni principali che l'informazione esprime in Toscana Sono delle occasioni importanti al di là della consegna dei premi a dei colleghi straordinari servono perché sono occasioni per fare delle riflessioni sulla nostra professione per capire qual è la direzione da prendere anche se le nostre regole deontologiche sono ben precise e danno la giusta rotta servono per confrontarsi per capire qual è il nostro ruolo finché i social non saranno riconducibili a un'identità vera ci sarà sempre il problema delle fake news dell'odio seriale ed è un problema che stiamo affrontando proprio in questi giorni noi come ordine stiamo facendo tanto sui temi che sono assolutamente di attualità come ad esempio l'intelligenza artificiale tant'è vero che abbiamo organizzato proprio come ordine fondazione dei giornalisti un Erasmus accreditato presso la comunità europea che si svolgerà a Malaga a novembre proprio sull'intelligenza artificiale per cui noi crediamo profondamente nella qualità dell'informazione e nella qualità di chi fa informazione siamo molto felici dopo il successo anche un po' inaspettato del primo anno torna per il secondo anno questo importante evento giornalistico a Foiano della Chiana ci candidiamo come comune per un importante evento a livello nazionale oramai devo ringraziare quest'anno in particolare l'ordine dei giornalisti della Toscana il Corecom la regione toscana perché ci hanno dato davvero un grande aiuto sia nel trovare poi gli importanti giornalisti che saranno a Foiano sia anche per aver organizzato un evento che sarà poi lo spunto per parlare di quelli che sono i nuovi metodi poi di informazione dall'intelligenza artificiale quali possono essere sia i problemi sia i vantaggi dalle fake news un nuovo modo di fare giornalismo insomma i nuovi anche metodi per approcciarsi al giornalismo e alle varie strutture di comunicazione e tutto questo lo facciamo anche in ricordo a due nostri storici giornalisti che sono Sbardellate e Nottolini che sono giornalisti locali ma che come tanti giornalisti locali poi hanno sempre raccontato il nostro paese la nostra provincia e tutta l'Italia con il loro modo garbato e alla vecchia maniera quindi è un modo anche per ricordare loro in questo evento che sta diventando ogni anno sempre più importante grazie a tutti Grazie a tutti.